Bella a tutti ragazzuoli qua, Orgasmic che dopo gli ultimi due deludenti pack opening della Premier League è qui pronto per aprire e cercare di trovare qualche giocatore della Bundesliga, del Team of the Season Bundesliga squadra davvero molto 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 bella e appunto siamo qui per aprire 5 o 6 pacchetti, adesso vedo più o meno cosa troverò ma come al solito non so come può andare cominciamo subito col primo pacchetto io vi ricordo inizialmente subito di iscrivervi al canale e mettere magari un bel mi piace come vedete primo pacchetto orrendo ecco quello che vi vorrei chiedere è se questo video riuscirà a raggiungere i 60 mi piace e poi sicuramente ci sarà l'apertura del prossimo Team of the Season che sinceramente non so qual è primo pacchetto comunque è andato male, vabbè ma un po' ce l'aspettavamo abbiamo trovato giocatori del tutto inutili direi e quindi è primo pacchetto che ha fatto un po' schifo io adesso cercherò che ne so di pregare qualche dio strano che magari ci permette di trovare un buon giocatore e secondo pacchetto vabbè da già dal nome non sto neanche a guardare i giocatori che trovo perché questo l'ho trovato 10 secondi fa scandaloso, scandaloso secondo pacchetto come dicevo è andato da far schifo proviamo con il terzo magari siamo fortunati ma sarà difficilissimo troviamo l'escott wow ora si che va bene continuo a essere abbastanza sfortunato anche perché cioè non so perché ho avuto quella botta di culo di di Nastasic che comunque cioè se andiamo a vedere bene valeva tipo 40.000 credit io sono riuscito a venderlo all'inizio 75.000 che era di un buon modulo 4.1.2.1.2 mi sembra ma comunque sia c'era un giocatore davvero forse uno dei più scarsi che si poteva trovare cioè uno dei meno costosi ecco scartiamo tutto e ci apprestiamo ad aprire il quarto pacchetto che sperando che la EA Sports ci regali qualcuno ma no direi assolutamente no abbiamo trovato ancora giocatori patetici un modulo buono un buon modulo perché comunque forse è anche il modulo migliore Valencia ATS AES non so neanche quanto possa valere quinto pacchetto speriamo che Chamberlain porti bene ho visto un video dove uno ha aperto aperto coso e ha trovato come si chiama Lewandowski quindi ma noi no assolutamente no troviamo Turan è un giocatore che ha 86 di overall ma probabilmente il giocatore meno costoso del gioco con un overall così alto insieme a Snyder credo quindi patetico patetico anche questo e quindi siamo pronti ad aprire l'ultimo pacchetto Leo Messi Leo Messi Leo Messi sperando che Leo Messi il dio Leo Messi ci regali un buon giocatore attenzione oh mio dio oh mio dio niente raga uno VS uno Uti no grazie adesso non posso come al solito ci siamo rimasti malissimo mi hanno trovato giocatori che potevo benissimo non trovare come al solito come ho già detto all'inizio vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video anche se il video ha fatto un po' schifo nel senso che non ho trovato un bel niente niente magari commentate quello che volete ci vediamo al prossimo al prossimo pacco opening anzi al prossimo video che sarà probabilmente le bestie nascoste bella rega grazie a tutti